Facebook utilizzato per gestire ordini direttamente al peschereccio e la distribuzione casa per casa. Sono solo alcuni esempi dei modelli da seguire per la commercializzazione diretta. Alla diffusione sul territorio anche di queste moderne applicazioni è stato dedicato il progetto Qualità Totale e Sistema Pesca Puglia, curato dall'Osservatorio Nazionale della Pesca. Per 18 mesi gli addetti delle marinerie, delle imprese di pesca e trasformazione di Taranto, Bisceglie e Molfetta, insieme agli studenti degli Ipsiam di Taranto e Molfetta, hanno sperimentato una innovativa attività di formazione svolta direttamente in barca e nei luoghi di lavoro. La sostenibilità della pesca, sia economica che ambientale, il risparmio energetico, buone pratiche per ottenere dei risultati minimi di risparmio energetico a bordo dell'imbarcazione, sicurezza sul lavoro, che è un tema estremamente importante per noi, e sicurezza alimentare, oggi che praticamente il sistema deve soddisfare normative comunitarie di estrema peculiarità del settore. Lo scopo è stato quello di acquisire nuove competenze tecnico-professionali e migliorare così le pratiche di gestione, per aiutare il comparto a uscire dal drammatico scenario della crisi. In particolare sono state quattro le tematiche affrontate, la sicurezza sul lavoro e quella alimentare, la pesca sostenibile e l'efficienza energetica. Una gestione responsabile, ad esempio sul carburante, consente una riduzione dei costi del 20-25%. I risultati raggiunti attraverso le schede di autovalutazione e lo svolgimento del progetto sono stati illustrati in un incontro a Molfetta. I dati acquisiti serviranno a sviluppare modelli gestionali in base alle esigenze riscontrate nelle singole marinerie. Riuscire ad avere delle idee, degli elementi di innovazione, nonostante il periodo di crisi, è un aspetto che ci sembrava più concreto che non l'aggiornamento astratto.